Buonasera fanciulle e fanciulli, come state? Buonasera da Francesca Guidi, buon sabato, sabato, mamma mia come vuole il tempo. Allora ragazzi se mi state vedendo in diretta mettete uno, se mi state vedendo in replay mettete due, se vi va scrivetemi anche da dove mi state guardando. Che di solito siamo internazionali e mi piace esplorare il mondo insieme a voi. Come va? Tutto bene? Come state passando questo fine settimana? Bene intanto ditemi se mi state sentendo, mettete un cuore, un mi piace. Allora argomento che mi sta molto 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 a cuore, ne ho parlato tanto anche al webinar che ho fatto sabato scorso, è già passata una settimana. A sabato 5 febbraio ho fatto un webinar dove abbiamo parlato di abbondanza finanziaria e non solo, anche abbondanza a 360 gradi perché la vera abbondanza sappiamo che è qualcosa che è a 360 gradi. E ho parlato del senso di colpa, abbiamo fatto anche dei rituali molto potenti. Ah, piccola premessa. Ragazzi, state sereni perché qualcuno mi ha detto, no? E io posso capire che possono avvenire anche questi dubbi. Qualcuno mi ha detto, Francesca ma io sono cattolico, posso fare certi rituali? Non sto tradendo la mia religione? Oppure io sono buddista, io sono musulmano, qualsiasi cosa. Allora, state sereni, state sereni perché voi non state tradendo nessuno, nessun dio, nessuna religione, eccetera. Tutte le religioni, nelle loro origini, permettevano all'essere umano di fare rituali. Le religioni si basano su riti, su rituali, tuttora sono fondate su riti. Perché? Perché il rito è qualcosa realmente, di realmente potente, che arriva alle profondità della psiche e la trasforma. E noi sappiamo oggi, lo sappiamo come funziona. Se tu ti trasformi dall'interno, trasformi anche quello che poi vedi all'esterno, trasformi la tua realtà. Il rito oggi, ahimè, è totalmente in mano alle istituzioni, sia religiose che finanziarie, politiche, eccetera. Perché non crediate che anche nelle istituzioni finanziarie e politiche non si facciano riti. Se ne fanno e come. Quello che ci è stato tolto oggi è proprio il potere del rito. Noi, noi esseri umani, ognuno di noi, deve recuperare questo potere nella sua quotidianità. E facendo così, non è che vai contro a Dio, contro nessun Dio. Perché se tu vai a vedere, per esempio, il cristianesimo delle origini, l'essere umano, era un continuo fare rituali, riti, riti, riti. Quindi noi dobbiamo assolutamente recuperare quella dimensione. Anche all'interno di religioni che sono appunto religioni di stato. Tu all'interno di una religione, di un'istituzione religiosa, puoi recuperare una dimensione profondamente ritualistica e profondamente spirituale. Ma non devi sentirti che stai tradendo Dio. Perché quello è un inganno della mente. Quello è mettere in atto, al solito, il classico comportamento espiatorio, poi, perché ti senti in colpa. Ma qui ci arriviamo perché oggi proprio parleremo appunto del senso della colpa. Senso di colpa è uno spasmo, come ho sempre detto. È una vibrazione profonda, inconscia. Molti di noi non sono neanche consapevoli di sentirsi in colpa. È un qualcosa che chiude i tuoi chakra, i tuoi centri energetici. Ti chiude la visione sottile, la visione del terzo occhio. Ti chiude certe facoltà a livello proprio energetico, sottile. È uno spasmo che, realmente, se una persona ha questa chiusura, la chiusura viene qua, a livello dello sterno e di questi chakra qua, fino all'ombelico. Questo è lo spazio che si contrae quando una persona si sente in colpa. Ma cosa significa sentirsi in colpa? Che cosa può portare questo sentirsi in colpa? Mette in atto comportamenti punitivi, autopunitivi, autosabotanti. Scusate, oggi ho questo raspino fastidiosissimo. Mi vedete bere alla bottiglia come una vera signora? Ma voi mi volete bere lo stesso, vero? Spero. Quando ti senti in colpa, tu metti in atto comportamenti autosabotanti. Cioè, ti punisci. Non è Dio che ti punisce. Sei tu. È l'uomo stesso che si punisce. Quando ti senti in colpa, ti aspetti sempre una punizione che non sai da che direzione arrivi. Può arrivare da qualsiasi parte. Spesso arriva non permettendoti di attrarre più ricchezza nella tua vita. Oppure continuando a farti vivere in una situazione di penuria, di povertà, per esempio. Ma esistono tantissime forme in cui, appunto, tantissimi ambiti in cui una punizione può prendere corpo. Un'autopunizione, un sabotaggio, un autosabotaggio dovuto al senso di colpa. E da dove deriva profondamente? Qual è l'origine di questo senso di colpa profondo? Avete mai sentito parlare del peccato originale? Beh, dato che, appunto, spesso vi spaventate quando cito buddismo, induismo, gnosticismo, cose di questo genere. Allora, rimaniamo in ambito delle religioni che conosciamo. Beh, il peccato originale l'avete sentito nominare, soprattutto se siete cattolici, cristiani, eccetera. Ma il peccato originale, in realtà, è presente in tantissime tradizioni spirituali in tutto il mondo. E è stato portato in essere da quando l'uomo ha incominciato a costruire la civiltà. La civiltà che poi conosciamo e che abitiamo. C'è una fantastica intervista di Pasolini, che Pasolini fa a Ungaretti. Che Pasolini fa a Ungaretti. E Ungaretti dice, beh, la civiltà è un atto di prepotenza incredibile contro la natura. La civiltà è un atto contro natura. Beh, se ci pensate bene, è vero. Cioè, asfaltare una strada è assolutamente contro natura. Lasciamo perdere che poi ci serve per spostarci più velocemente. Questo telefonino non è certo qualcosa di naturale. È stato costruito, eccetera. Ma la mente stessa, la mente stessa, che per lo sciamano è un'installazione esterna proprio. Lasciamo perdere poi che cosa significhi realmente questo termine installazione esterna. Che dà un po' un senso di distopico. Terribile, un po' alla Matrix. Ma ci sta. La mente stessa è un atto contro natura. Nel senso che è un qualcosa che separa, che discrimina. La mente divide il bene dal male, il giusto dallo sbagliato. La mente porta in essere la morale. La morale utilitaristica. La morale non è presente in natura. La natura non va verso il bene. La natura va verso il bello. Va verso la bellezza. E tu infatti in natura non trovi l'opposto della bellezza. Non lo trovi. Non trovi il male. Non trovi il bene e il male. Tu mi puoi dire giustamente, beh, la gazzella che è sbranata dalla tigre non è bello. No, non mi puoi dire che non è bello. Non mi puoi dire magari che è terribile, ma non mi puoi dire che è brutto. Un albero secco non è brutto. Ok? Quindi in natura non ci sono questi opposti. Di bene, male, eccetera. Di giusto e sbagliato soprattutto. Non esiste. È soltanto l'uomo che porta in essere attraverso la mente questa discriminazione. E da qui il peccato originale. Da qui il peccato originale che è questo senso di colpa profondo che è infilato negli anfratti della psiche. Questa vibrazione inconscia che è proprio di colpa di essere andati contro natura. Di aver fatto qualcosa che è contro la natura. E di conseguenza l'essere umano porta in essere costantemente autosabotaggi. Si sente costantemente in una sorta di conflitto con la natura. In una sorta di penuria anche di senso di non abbondanza. Che è tipico invece dell'essere distinti. Sì, ma non separati dalla natura. Di essere in questo stato vitale. E quindi subentrano un sacco di problemi. Un sacco di problemi. E poi anche quest'idea che effettivamente esista realmente un errore. Che l'uomo possa realmente avere un effetto sugli eventi che capitano. Un effetto attraverso il suo io. Attraverso la sua mente che possa controllarli. Questo porta in essere l'illusione del controllo, del potere. E porta in essere l'illusione anche dell'errore. Perché l'errore è qualcosa che è come conseguenza dell'idea che tu effettivamente possa avere un libero arbitrio sugli eventi che sono il divino, sono entità fuori dallo spazio e dal tempo. Tu il libero arbitrio in realtà non ce l'hai con gli eventi. Casomai il tuo libero arbitrio dov'è? Il tuo libero arbitrio sta nel come ti relazioni a questi eventi. Ti relazioni con paura? Cercando di controllarli o ti relazioni con la resa, con il darti? E quindi cucrei insieme a loro, scrivi un destino di un certo tipo senza paura, affidandoti, amandoli. E' qui che sta il libero arbitrio dell'essere umano. Ma ora, tornando al discorso della colpa, vi volevo raccontare un mito. Un mito che è presente proprio nei nostri Vangeli Apocrifi, che sono appunto i Vangeli dell'ognosticismo, del cristianesimo delle origini. Vangeli, che è il mito del Green Man, l'omino verde. L'omino, l'uomo verde, lo so perché ho detto mino, mi viene sempre in mente l'omino perché c'è questa faccia tonda, per esempio, si trova in tantissime cattedrali. Se voi siete stati nella Roslyn Chapel vicino a Edimburgo, c'è questa faccia tonda raffigurata in questa Roslyn Chapel, che è appunto dell'uomo verde, del Green Man. Questa faccia tonda dalla quale escono tutte delle erbe. Per questo si chiama il Green Man. E la Roslyn Chapel è diventata famosa con Dan Brown, ma era conosciuta per i Templari, per i Cavalieri Templari. Non so se avete letto il Codice da Vinci, è lì che si svolge poi la parte finale del Codice da Vinci, nella Roslyn Chapel. La Roslyn Chapel è veramente il, fra virgolette, il testamento dell'ognosticismo perché ogni cosa nella Roslyn Chapel proprio descrive parti dell'ognosticismo, del cristianesimo delle origini, dei Vangeli Apocrifi, eccetera. Tra cui appunto il Green Man. Chi era il Green Man? Tanto ditemi se lo conoscete, scrivetemi se conoscete il Green Man. Allora il Green Man era Adamo. Adamo si racconta in questo mito che prima di morire, in punto di morte, sentiva che stava per morire, si sente in colpa, si sente in colpa. E allora manda suo figlio da Dio e gli dice ti prego vai da Dio e chiedigli di darmi un segno del perdono, che mi ha perdonato. Allora il figlio corre da Dio e gli dice guarda mio padre sta morendo, Dio mio padre sta morendo, per favore si sente in colpa, dagli un segno che lo hai perdonato. E Dio dice perdonato, perdonato. Ma di che? Ma di che lo devo perdonare? Di che lo devo perdonare? Allora però per come segno di un effettivo perdono, dato che Adamo stava morendo e si sentiva in colpa, da al figlio di Adamo dei semi e gli dice vai da tuo padre, dagli questi semi come segno del mio perdono. Anche se io letteralmente da Dio casco dalle nuvole e non so di che cosa devo perdonarlo. Interessante come cosa. Allora il figlio di Adamo corre da Adamo e purtroppo Adamo è già morto quando arriva, quindi non gli ha potuto dare i semi del perdono di Dio. Allora glieli mette nella bocca e da questi semi usciranno, germoglieranno queste erbe e da qui appunto il Green Man, questa faccia con queste erbe che escono dalla bocca. Questo mito è pazzesco, è fantastico, proprio ti fa vedere l'equivoco in cui cade l'essere umano, l'essere umano, l'essere umano. Spero mi sentate ancora, sono tornata in diretta, ogni tanto alle sette mi suona sempre la sveglia perché per cose mie. Al solito signora con la bottiglia d'acqua, la prossima volta mi organizzo con una borraccia è un po' più elegante. L'uomo identificato con la sua mente percepisce un errore e poi un perdono separato dall'errore. Cioè tra l'errore e il perdono c'è un tempo e c'è uno spazio. Questa è la mente. Ma nell'universo, l'universo che quando sei fuori dalla mente comprendi che il tempo e lo spazio sono illusioni, per l'universo non esiste errore perché dal momento che c'è un errore esiste di conseguenza un'armonizzazione dell'errore. simultanei. Simultanei. Tant'è che nel buddismo si dice la causa e l'effetto sono simultanei. Per esempio, no? Cioè siamo noi che percepiamo prima ho fatto una cosa e poi c'è l'effetto. Perché? Perché la mente ha bisogno di esercitare un controllo sugli eventi e allora ha bisogno di diluire gli eventi attraverso un prima, un durante e un dopo con il senso del tempo lineare. Ma in realtà tutto accade simultaneamente nel qui e nell'ora. Il simbolo nel buddismo è il fiore del loto. Il fiore del loto c'ha appunto cioè il seme e il fiore ti dice beh, sono simultanei. È come se già fossero soltanto appunto un discorso di percezione il fatto che ci sia uno sviluppo, no? In realtà tutto avviene ora. E questo vale anche per l'errore e per la colpa e per il perdono. Sono la stessa cosa. Fintanto che sei nella mente e tu percepisci che hai fatto un errore oltretutto percepisci hai l'illusione di essere stato te e il responsabile dell'errore l'errore nel caso di la colpa, nel caso di Adamo è stata quella di aver portato in essere la morale utilitaristica attraverso la mente ha mangiato il frutto del peccato e ha portato in essere la conoscenza ma non la conoscenza dell'anima la conoscenza della mente del bene, del male, del giusto, dello sbagliato infatti inizia a coprirsi ora è male porta in essere questo porta in essere questa questa discriminazione attraverso la mente è lì che nasce la mente è lì che nasce il peccato originale diciamo però non esiste non esiste realmente il peccato perché se c'è un peccato c'è anche un perdono e nel Tao per esempio questo si vede chiarissimamente nelle filosofie taoiste il bene e il male sono simultanei stanno l'uno dentro l'altro no? lo vediamo rappresentato nella figura del Tao nel nero con un po' di bianco un bianco con un po' di nero dentro eccetera però ecco Adamo ha vissuto una vita intera una vita intera con il senso di colpa Adamo ha vissuto una vita intera creando probabilmente eventi funesti eventi espiatori creando appunto un autosabotaggio e questo l'uomo lo fa continuamente lo fa continuamente magari dando la colpa a Dio alla sfortuna chissà qual è il caso quando uno ha una visione un po' più materialistica dell'esistenza ma sei tu sei tu che sei dentro questa cosa qua e tu devi assolutamente uscire da lì devi assolutamente uscire da questo stato vitale devi assolutamente uscire da questo stato vitale io ho amiche che hanno hanno vissuto nel senso di colpa per una vita per aver abortito per esempio e spesso hanno messo in atto comportamenti compensatori proprio di questi eventi funesti eventi terribili effettivamente per loro dell'aborto perché nella loro testa nella nostra testa di esseri umani c'è l'idea che siamo responsabili di quell'aborto adesso dico una cosa forte che può fare incazzare tantissima gente allora questa cosa dell'avere responsabilità sugli eventi dipende da la civiltà in cui viviamo è una visione che dipende dalla civiltà in cui viviamo della civiltà dell'io dell'individuo ma se lo chiedi a un buddista al buddista ti parla di karma era il tuo karma se lo guardi attraverso gli occhi degli antichi greci un evento per esempio immaginati no ecco immaginati una situazione in cui sei nella foresta e tu vedi un gatto che mangia un topo ok questo evento del gatto che mangia il topo ogni cultura e in base all'epoca in cui si è sviluppata te lo racconta in modo completamente diverso noi ce lo raccontiamo con noi insomma l'essere meno spirituale te lo racconta come boh è stato un caso il topo poverino era sfigato è passato di lì e il gatto è stato responsabile di aver sbranato il topo e di essere solo mangiato il buddista ti dice no il karma del topo in quel momento l'ha fatto trovare lì il karma del gatto te l'ha fatto trovare lì si sono incontrati perché i loro karma si intrecciavano e allora c'è stato questo questo si è consumato questo evento i greci gli antichi greci Omero te lo raccontava in maniera completamente diversa non portava neanche in essere lui il senso dell'io del gatto e del topo lui ti diceva scese la notte questo evento che era uno spirito un'entità si è calato insieme alla notte e ha fatto sì che il gatto e il topo si incontrassero per dire addirittura quando racconta le gesta di Omero non c'è mai Omero in prima persona che impugna la spada e fa fette qualcun altro ma si vede sempre magari c'è sempre il raccontato di un braccio che improvvisamente spunta impugna una spada e fa fuori un avversario questo questo portare in essere l'io è una cosa del tutto moderna è una cosa del tutto moderna allora tu mi dici perché faccio incazzare le persone perché tu mi dici vabbè allora quella ragazza che ha abortito non è stata responsabile di quell'aborto per esempio no la responsabilità noi non abbiamo realmente un controllo degli eventi non abbiamo realmente una responsabilità sugli eventi che sono spiriti sono divinità sono entità noi abbiamo la nostra responsabilità sta nel come ci relazioniamo a questi eventi non è nel faccio questo o faccio quest'altro addirittura oggi la scienza anche la scienza ufficiale si sta avvicinando molto a questa idea perché sta scoprendo che l'impulso del fare un'azione o di non farla arriva ancora prima che si creino addirittura certe certi certe cascate di impulsi chimici e fisici per cui tu puoi fare quell'azione o prima ancora che ti nasca l'intenzione di farla cioè è qualcosa che non si sa da dove viene per la scienza quindi addirittura la scienza sta smontando il libero arbitrio ma il tuo libero arbitrio sta nel come ti relazioni a questo evento quindi se ti sei collegato adesso arrivati a vedere la diretta prima ma poi lo sai io ne parlo sempre di come ti relazioni un evento affidandoti dicendo ciò che tu vuoi e allora si avendo un reale potere sull'evento e cocreando insieme a lui il destino che desideri oppure scappi fuggi perché hai paura e vieni in questo modo fatto fuori asfaltato dall'evento come ti relazioni fa tutta la differenza detto questo a un'amica che ha abortito e si sente in colpa e ha messo in atto un comportamento autoespiatorio magari facendo decidendo di fare un lavoro che non era poi il suo o sposando una persona che non era proprio quella perché c'è sempre una sorta di compensazione di non meno merito eccetera le racconterei che esistono anime per l'induismo per il buddismo delle origini tibetano nel libro tibetano dei morti ma anche nell'ognosticismo il cristalesismo delle origini si parla di anime nell'induismo sono i prema anime che hanno bisogno di ottenere incarnazioni sempre migliori e velocemente quindi decidono di incarnarsi madri che abortiranno proprio per bruciare vite bruciare vite velocemente perché noi sappiamo che le nostre incarnazioni le nostre vite servono per farci bruciare karma noi bruciamo karma attraverso le nostre emozioni attraverso le cose che viviamo noi realmente trasformiamo il nostro karma e queste anime i prema si incarnano sapendo di dover morire ma quale colpa ci deve essere realmente la colpa in questo caso anche nell'aborto è portata in essere da tutta una serie di condizionamenti da tutta una falsa idea un'illusione del fatto che tu possa avere un reale controllo sugli eventi che in realtà sono divinità sono spirito sono archetipi se sei scettico e lo vuoi dire a modi psicanalista perché poi mi si accusa di esoterismi e cose varie sei materialone sono archetipi tu sugli archetipi hai veramente zero controllo accadono poi il controllo casomai la scelta è nel come ti ci relazioni allora anche lì via via il senso di colpa in questo caso è chiaro che qui non si sta per esempio sdoganando l'omicidio o cose di questo tutt'altro perché tu vuoi andare come fa la natura verso il bello verso il bello allora realmente concentrati su il valore della bellezza avete mai sentito dire la bellezza salverà il mondo perché è questo è questo la bellezza la bellezza è un valore potentissimo potentissimo quindi noi dobbiamo coltivarla assolutamente è tutto lì e essere consapevoli che l'errore realmente non è possibile non è possibile l'errore non è possibile esiste l'illusione di un controllo esiste il comportamento espiatorio che tu metti in atto dopo in seguito a questa idea di controllo di non controllo degli eventi noi nel webinar che abbiamo fatto il 5 abbiamo fatto un rituale è perché poi i rituali a che cosa servono in questo caso quando è che un rito è potente quando il rito serve a mollare questo controllo sugli eventi a uscire dalla mente che porta in essere la morale utilitaristica del giusto e dello sbagliato eccetera serve a lasciare andare a dire io lascio il controllo lo lascio non sono io non è il mio io che è illusione che può controllare no? e allora in questo modo tu ristabilisci l'equilibrio primevo con la natura il patto con la natura che è stato spezzato dagli esseri umani oggi lo puoi ristabilire a livello individuale questo equilibrio con la natura e allora il senso di colpa si scioglie si scioglie lo vedi che non ha più ragione di essere si scioglie per questo è molto importante il rito perché a parole adesso magari puoi aver avuto dei flash di illuminazione e dire caspita però è vero cioè è per l'anima che è fuori dal tempo e dallo spazio se c'è un errore c'è anche un perdono cioè se c'è un disequilibrio c'è anche un equilibrio simultaneo però quando è che la psiche profonda lo capisce quando fai il rituale e nel caso del webinar vi ho fatto il rituale del cedere simbolicamente con un con un oggetto e delle sequenze cedere il potere e ricostituire questo patto durante dentro scusate il gruppo del creator card lavoreremo anche con altri rituali proprio per andare proprio a scardinare questo meccanismo dalla mente andare a recuperare questo senso di totale libertà che non è assenza di valori anzi anzi muovere verso il bello vuol dire muoversi verso l'estetica più che l'etica ma l'estetica è è un valore che porta comunque verso il costruire il costruire e quindi l'armonia eccetera lavoreremo con questi rituali all'interno del gruppo del creator card se non ci siete ragazzi sapete come fare andate sul mio sito cercate scrollate c'è il creator card per essere parte della community creator card con i contenuti speciali dovete intanto prepararvi con le pratiche del creator card del manuale del creator card queste sono pratiche di 30 giorni che uno poi ripete per farle sedimentare bene nella propria nella propria esistenza e in questo gruppo noi inizieremo proprio a lavorare sullo sciogliere il senso di colpa una volta che tu sei libero dal senso di colpa tu hai accesso ad abbondanza a 360 gradi l'abbondanza è e deve essere a 360 gradi non può esistere la libertà finanziaria senza l'abbondanza di relazioni non è vera abbondanza quella non è vera abbondanza se tu capisci le leggi spirituali su cui si poggia l'abbondanza vera allora tu la comprendi la includi in tutte le aree della tua vita per forza per forza allora ragazzuoli io vorrei sapere poi scrivetemi tutto quello che mi dovete scrivere perché io lo sapete leggo sempre tutti cerco di rispondere sempre a tutti ogni tanto me ne sfugge qualcuno ma non è voluto di messaggi scrivetemi sotto questa diretta tutte le vostre impressioni scrivetemi se conoscevate il mito del green man della Rosalind Chapel e scrivetemi tutto come la pensate se vi è stato utile se non vi è stato utile per me i vostri feedback sono ossigeno sappiatelo qualsiasi tipo di feedback ok bene allora ora non so cosa farete io mi vado a preparare da mangiare stasera si va di pizza però rigorosamente integrale perché poi se no mi viene un mattonazzo sullo stomaco che addio addio tutto addio meditazioni addio tutto perché se mangi male cioè è inutile veramente di che stiamo a parlare qua di rivoluzione spirituale se poi ci ingolfiamo di roba pesante e tossica dai quindi bene mi ha fatto piacere passare questo tempo con voi adesso vengo anche a leggere tutti i vostri messaggi e ci sentiamo alla prossima ciao ciao